I carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno sequestrato un carico di stupefacente destinato probabilmente a rifornire alcuni detenuti del carcere di Santa Maria Capovetele. In particolare i militari dell'arma, a pochi metri dalla struttura carceraria sanmaritana, hanno sottoposto a controllo una Fiat Panda con a bordo 4 persone, rimanendo ben occultati all'interno dell'utilitaria, 1,3 kg di hashish suddiviso in 13 panetti, 62 g di cocaina, nonché 7 telefoni cellulari e 4 microcellulari. Gli occupanti dell'autovettura, due donne e altrettanti uomini originari della provincia di Caserta sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da Caserta è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it